Buongiorno a tutti, finalmente rieccoci a Torino. Oggi è sabato 8 ottobre e iniziamo le analisi settimanali del weekend con l'S&P 500. Che cosa è successo? È successo che ci siamo presi un bello spavento, nel senso che è vero che avevamo indicato anche la possibilità che il secondo mensile di questo trimestrale, che può aver lanciato un annuale già ribassista, potrebbe essere partito da anche qui, con tutte le caratteristiche e le condizioni necessarie e sufficienti per partire, chiusosi a 37 giorni, però se ciò fosse stato, con questi due carandele e poi la terza saremmo partiti verso l'alto. Invece dall'osservazione del, di nuovo ancora una volta, del piccolo MIB, di un mercato che è quasi un mercatino rionale rispetto a tutti gli altri, sia in Europa che figuriamoci negli Stati Uniti, possiamo dire che la centratura corretta continua a sembrare questa, primo ciclo mensile, secondo ciclo mensile, terzo ciclo mensile non finito, arrivato a 23 bar sul minimo 24, eccole qua, e con la possibilità di andare persino con il terzo T settimanale che può comporre lo primo, secondo, terzo, tre tempi, di nuovo sotto questi minimi a 3854 dollari per chiudere tutto questo movimento. Tutto questo movimento, sia in termini di swing che di tempo, ci ha permesso di ragionare potenzialmente, purtroppo, come sapete già, di un ciclo annuale ribassista, che è arrivato solo 78 barre su durata minima di un annuale 192, ok? In alternativa potrebbe essere un raccordo e lo vedremo quando ci sarà il rimbalzo. Questo primo tentativo di rimbalzo che è stato fortissimo, perché siamo partiti da area 3584 e siamo arrivati a 3722, non so se abbiamo chiarito, oltre 100 roti punti di risalita in pochissimo tempo, però è stato riassorbito con che cosa? E con queste ultime due candele. Anche in questo caso, dato che purtroppo ci sono più centrature, ricordatevi, l'alternativa al fatto che qui si possa essere chiuso un mensile inverso e qui ne stia partendo un altro, con una forza a ribasso fortissima, ok? Perché quando parte un uomo mensile, perlomeno, fateli fare sette candele sotto un massimo, noi ne abbiamo due, sei candele. Scusate ma ho un po' di micrania anche oggi. Peraltro, non so se sia già stato detto da altri youtuber o analisti, questo è un island reversal. Questo è un island reversal. È una figura che ho imparato, ahimè, a conoscere con una perdita brutta, molto brutta, tanti anni fa, fatta tanti anni fa, sul petrolio. Ho perso talmente tanto che adesso li vedo lontani o meglio questi island reversal e appena li vedo so che cosa succede. Se non vengono smentiti e bla bla bla, ma in questo momento sembra proprio una roba che può farci fare che cosa. Olè! Farci ritornare di nuovo ancora a fare un bel giro sotto. Ricordiamoci che basta una candela rossa per chiudere sia il terzo t settimanale che il terzo mensile. Basta solo un lunedì non bello che ci riporti sotto i 3.584 punti e poi si può fare tutto quello che si vuole. Perché avremo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura 24 barre non soltanto di un terzo mensile ma anche di tutto questo movimento che come detto è arrivato a, ritorniamoci indietro, 78 barre e quindi sappiamo che è già un t più 3 vincolato ribasso. Ci siamo presi un bello spavento però per un motivo che qui abbiamo violato uno swing importante che però si è trovato ad aver a che fare con la scomparsa dei volumi giovedì 6 assenti in acquisto e devastantemente presenti in vendita il giorno successivo. Per questo motivo la situazione più probabile è questa. Ritorniamo sul grafico a 15 minuti. Volevo soltanto mettermi questo t, terzo t. A che punto siamo? Allora, qui abbiamo, se non mi ricordo male cos'era, era ancora da vedere, questo, no 38 barre, perfetto. E anche l'ottavo, anche da qui 32, perfetto, ok. Da qui abbiamo perlomeno che è partito un nuovo settimanale, swing violato, tempo superato, che però sta invertendo e come vedete ha creato questo island reversal. Se non sapete, se non conoscete determinati termini che utilizzo, che sono molto tecnici e che riguardano figure di inversione piuttosto che altro perché nell'evoluta ci sono analisi tecnica, indicatori, candele giapponesi, volumi, Hurst, Gunn e tante altre cose, l'analisi volumetrica appunto, ecco, ricordatevi che avete internet o potete comprarvi dei libri che vi raccontano che cosa sono queste figure. Quando studiavo, che cosa facevo? Non chiedevo sempre ma che cos'è un island reversal alle persone? Andavo a cercarmelo, me lo fissavo in testa e ragionavo sul da farsi. Per cui, vista questa figura di inversione, visto il fatto che dopo che siamo nella prima parte della settimana volati in Golden Cross, eravamo in questa situazione qua, ve lo faccio vedere sempre senza la seconda parte così capite meglio in che bella situazione eravamo, ok, e poi però abbiamo perso rapidamente volumi e siamo andati giù a peso morto. Siamo andati a creare questa figura per cui adesso vediamo. Il quinto T-3, il quinto ciclo giornaliero, è arrivato a 22 barre, può farlo perché minimo 21 su DAX e S&P 500, ricordatevi che ci sono sempre delle differenze per cui ne parliamo anche nel Premium e bisogna vedere di inverso a che punto siamo arrivati. Qui dove può aver chiuso? Mi sembra abbastanza semplice trovarlo in tempo reale così da finire la centratura perché sul treno non c'era praticamente connessione, quindi purtroppo Italo ha un internet, un wifi che è pessimo, sicuramente meglio quello di Italo ma ne sono dei due mi soddisfa quindi solitamente utilizzo quello del cellulare. Siamo arrivati a 29 barre, può pure fare un tentativo di rimbalzo, per fare che cosa oltretutto? Per far partire o un sesto T-3 oppure insieme al sesto T-3 anche un nuovo T-1 perché anche in questo caso può provare di salire, poi dopo la giornata di lunedì vedremo un pochino quanto spazio è ancora per salire eventualmente. Ricordandoci che qui non è detto che parta da subito il sesto T-3 perché siamo tra virgolette solo a 25 barre su minimo quante di discesa che possiamo avere su un T-3, 44, quindi fino alle 20 di lunedì, ma anzi lunedì sera. Direi che è tutto per l'analisi, fate attenzione alle posizioni in rialzo, vi auguro una splendida domenica e se volete avere informazioni come al solito troverete tutto sotto nelle descrizioni oppure sotto nei commenti, sotto il video. Buona giornata a tutti, arrivederci! Grazie! Grazie!